In Basilicata i dializzati sono circa 460, in trattamento presso 11 centri dialisi di cui uno privato, numeri che secondo il consigliere dell'IDV benedetto non vanno sottovalutati. Il rischio dice che i dializzati in mancanza di soldi per raggiungere i centri rinunciano al trattamento di dialisi. Secondo l'esponente politico, infatti, nonostante le continue sollecitazioni che giungono dagli emodializzati, la regione Basilicata, che con legge regionale numero 30 dell'81 aveva riconosciuto un aiuto economico per i costi di trasporto, non è più in grado di garantire lo stesso contributo. E dunque, dice Benedetto, rispondendo all'intervento dell'assessore regionale alla sanità Martorano, è bene fare meno relazioni retoriche e più fatti concreti per la tutela della salute dei cittadini, a partire dalle categorie che ne hanno più bisogno, quelle dei malati cronici e quelle economicamente disagiate, colpite duramente dai ticket sanitari, di cui siamo sempre in attesa della rimodulazione. Il consigliere sottolinea poi anche altri problemi legati alla sfera della salute, come la carenza di personale medico-infermeristico e l'ampliamento di alcuni centri di alisi.